In questo numero del Salus Tg. Fondi a 12 progetti sfida, la scommessa di Fondazione Cariplo e AIRC. Il rapporto sugli errori medici, una richiesta d'anni ogni 10 posti letto nelle strutture dell'SSN. Un immigrato su due rischia il cancro per stili di vita e zero screening. 12 cervelli italiani under 40 con una sfida nel cassetto. Una ricerca coraggiosa che promette di rompere gli schemi della lotta al cancro. Sui loro progetti di avanguardia, Fondazione Cariplo e AIRC hanno deciso di scommettere più di un milione di euro contro IDEO, un bando cofinanziato per la ricerca di frontiera. Vogliamo che questa ricerca esca dai cassetti e soprattutto premi i giovani e non più giovani perché attorno a questi giovani e con loro ci sono i loro maestri. I creativi in camice selezionati dal bando Trideo hanno già alle spalle anni di laboratorio e pubblicazioni scientifiche. C'è anche chi ha calcato le pagine di Nature. È il più giovane a 31 anni e 7 su 12 sono donne, in gran parte mamme. Nessuno vorrebbe incappare in uno di quei 66 incidenti tra traumi ed errori che avvengono ogni anno in una struttura ospedaliera italiana. Globalmente in 10 anni la frequenza di sinistri è aumentata, più 4,8% ogni 100 medici, più 2,7% ogni 100 posti letto e più 7,2% ogni 1000 ricoveri. Nel dettaglio parliamo di quasi un sinistro ogni 10 posti letto l'anno e quanto emerge dal report di Marsh che segnala un lieve calo per il 2013. Il 50% degli stranieri che vivono in Italia ha stili di vita sbagliati e non si sottopone a screening, correndo quindi un rischio di tumori più alto. Le barriere linguistiche ostacolano l'accesso alle cure e agli strumenti di prevenzione. Per informarli arrivano 4 opuscoli informativi in 7 lingue, distribuiti in ospedali, organizzazioni di volontariato, ambasciate e medici di famiglia.